Ciao ragazzi, oggi è venerdì quindi sarà lo sparring day, un giorno un po' più impegnativo e sarà strutturato così, ve lo introduco brevemente, prima ora faremo un'ora di soltanto sparring di grappling e successivamente avrò un'ora e mezzo di sparring di kick MMA e poi magari anche grappling dipende un po' come ci gira, un po' improvvisato lì al momento questo è l'ultimo weekend dove farò anche sparring di MMA perché ho in vista l'europeo da preparare di grappling quindi dopo oggi è tutto focus chiaramente per la gara che sarà fino a ottobre quindi niente, dopo questa breve intro in macchina un po' diversa dal solito ci vediamo direttamente lì Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ho scordato di prendere la creatina, quindi messa come entra un workout, il burraccione. Se vi scordate va bene, ma sarebbe meglio prenderla prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ancora manca un'ora e tre quarti alla fine. Grazie a tutti. 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 I love you. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.